Provenio in provincia di Genova ospita la seconda prova del campionato regionale Ligolettria 2019 ad opere del Motoclub della Superbe in collaborazione con l'amministrazione comunale. Ligolettria 2019 Ligolettria 2019 La gara è andata bene subito dalle prime zone, sono partito molto bene, ho guidato come so guidare, mi sono trovato subito col terreno, ho fatto molti errori per poter evitare. Voglio ringraziare soprattutto mio padre che mi segue in tutte le gare, la famiglia che mi sostiene. Categoria femminile, prima classificata, Emanuela Spadoni. La gara è andata discretamente bene per quanto il terreno fosse molto scivoloso, sono fiera di alcuni passaggi, soprattutto della zona 6 all'ultimo giro e di essere arrivata in fondo a tutte le zone. Ringrazio mio padre, il mio mind era un ricercato e tutto il terreno di Maveto per il sostegno che mi danno sempre. Ligolettria 2014, il vincitore Corrado Guidotti, raccontaci com'è andata la tua gara. Una gara bella, impegnativa, è stata una gara molto difficile, ho guidato meglio come potuto, ringrazio tutto il mio team, sono contento, grazie. Categoria TR5, Capulandea, raccontaci com'è andata la tua gara. Una gara ottima, ottima per me, non me l'aspettavo, è stato divertente, peccato un po' la pioggia che ha reso tutto più complicato. Siamo con Marco Carbone che ci racconta com'è andata la sua gara. Una bella gara, abbagnata, zone molto difficili, una bella organizzazione, ottime zone naturali, ringrazio il team PGR, tutti gli sponsor e chi mi ha seguito.